Quando allora? Quando le potenze dei cieli saranno sconvolte? Quando verrà meno ogni sicurezza e solidità? Quando verranno meno tutti gli appigli cui è aggrappata la vita, la consistenza personale, la solidità sociale comunitaria? Allora la vostra liberazione è vicina. Per vederla sono necessari due movimenti fisici interiori, alzarsi e levare il capo, sono l'annuncio della Pasqua già dalle prime ore dell'Avvento. Gesù ci rivolge un invito alla vittoria, alzati, è finito il tempo in cui vive ferito, abbattuto, per l'angoscia da ogni pressione di ogni genere. Quando questa parola entra nella vita? Sempre. Perché sempre la vita è in bilico, tra traguardi e sconfitte, tra il sublime e il tragico. Gli stessi fatti li possiamo accogliere alzandoci o possono essere rifiutati ripiegandoci. Attendere con la testa alta è anche scrutare ciò che è nascosto nei fatti che non capiamo, sapendo che in ogni difficoltà, come in consolazione, c'è qualcuno che ci parla. Attendere è cercare nei fatti l'invisibile tenerezza di Dio, è scegliere, quando siamo nel bivio di una fatica, la via della realtà. Lì è nascosta la providenza di Dio. Quando il Signore verrà? I padri ci ricordano tre venute del Signore, quella passata che si compie nel suo cammino di morte e resurrezione, quella presente che si attua nel nostro essere associati al suo mistero, quella futura anticipata per ciascuno nella morte ed estesa a tutti alla fine del mondo. Se a noi sta a cuore quest'ultima, il Signore ci ricorda che si prepara al presente e nessun momento è neutro, ogni istante è gravido di futuro. Allora la sua venuta passata dà forza alla nostra fede, la sua venuta futura dà forma alla nostra speranza, la sua venuta presente nutre la nostra carità. Mi chiedo quali sono i segni di speranza che leggo nella mia vita.